Buonasera e benvenuti a questo nuovo incontro con Igor Sibaldi che saluto. Buonasera, grazie di essere nostro ospite. Questa sera parleremo di un gigante della letteratura che è Letto Stoi e mi piace introdurre Buonasera e benvenuti a questo nuovo incontro con delle parole che ho trovato, tengo a precisarlo, nel libro che Igor mi ha regalato e da cui ho tratto anche alcune delle domande che gli farò. Ed è una citazione di un giovane Tolstoi che dice che è un'introduzione secondo me che ci inquadra perfettamente anche nel senso che io do a questi nostri incontri correlati come sono per me con un'importanza anche per chi si occupa della cura della mente, nella misura in cui l'arte è fondamentale per capire il mondo. Bene, cosa dice Tolstoi in un racconto giovanile che Igor ha citato nel suo, in uno dei pezzi presenti nel saggio? Quel che conta non è sempre e soltanto l'utilità delle cose, giacché c'è anche la bellezza e l'arte è bellezza. Io trovo che questa frase sia assolutamente straordinaria. Adesso passo la parola a Igor per commentare questa frase e parlarci un po' ma di chi era? Chi era poi Lev Tolstoi? Erano due persone, erano due persone. Tolstoi ha fatto una cosa che ancora oggi è pericolosissima, pericolosissima, cioè cambiare identità, identità intellettuale, identità letteraria, eccetera. Cioè il primo Tolstoi, primo Tolstoi, che è una persona tradizionale, tranquilla, fino più o meno a Nacarenina, qualche agitazione, cioè fino verso il 57-58 anni praticamente, ha avuto una lunga vita ed era una persona perfettamente integrata nel sistema, ricco, ricco, non ricchissimo, non ricchissimo, ricco, aveva i suoi 400 servi, 400 servi vuol dire 400 capi famiglia, più le famiglie, diverse tenute, non aveva mai avuto bisogno di soldi se non quando giocava un po' tanto all'estero ed era un conservatore, un grande aristocratico conservatore. A quel tempo, c'era, al tempo di quella citazione, c'era, sono cose che si ripetono anche oggi, c'era una sinistra in Russia, la sinistra che diceva la bellezza non è importante, l'importante è l'utilità. Cosa conta Raffaello quando c'è gente che muore di fame, per dire? L'importante prima è dare da mangiare alla gente e poi interessarsi di Raffaello. Sono cose che torno periodicamente questa nella storia dell'Occidente. Ecco, Tolstoi a quel punto occupava la posizione conservatrice, cioè diceva ma no, 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 non importano le cose utili, la tecnologia, il progresso, eccetera. L'importante è la bellezza. Se Tolstoi a settant'anni avesse letto questa sua frase, si sarebbe arrabbiato tantissimo. Precato proprio. Perché poi è venuto al contrario, è venuto al contrario. L'ho sentito a un certo punto da vecchio un libro che cos'è l'arte, che era furibondo, dicendo questa gente che spende così tanti soldi per l'opera lirica, ma quante ore lavoro ci sono in un'opera lirica? Ma non si rendono conto queste persone di quanti sforzi stanno sprecando per fare una rappresentazione. Ecco, è terribile da sentire. Tutte e due le parti di Tolstoi sono equivalenti, tutte e due, sono forti uguali, forti uguali. Il primo Tolstoi, quello di Guerra e Pace, è fortissimo, bestseller mondiale. Il secondo Tolstoi, quello di Ressurrezione, è fortissimo, bestseller mondiale e sono in contrasto l'una con l'altra, cervello sinistro e cervello destro. Ecco, Igor, a me colpisce ovviamente questo ragionamento che tu hai fatto dell'evoluzione in fondo, diciamo, di questo personaggio che ha attraversato praticamente il secolo, è arrivato al limite della rivoluzione d'ottobre e in qualche maniera anche, come dire, nell'ultima fase della sua vita, mi sembra anche essendo vicino a delle posizioni contro, diciamo, quello stato in cui lui aveva vissuto come partenente alla nobiltà, abbastanza inserito nell'establishment. Io vorrei provare con te a percorrere quindi il suo pensiero, l'evoluzione del suo pensiero attraverso, diciamo, i suoi romanzi, no? Ecco, cominciamo con Guerra e Pace, no? Che è, diciamo, quello che lo ha lanciato a livello mondiale e che mi sembra di aver capito, l'ho anche salvato un po' dalle persecuzioni dello zar quando non gli era simpatico, in quanto era una persona molto famosa e come già succede anche oggi, i famosi vengono un po' preservati, giusto? Sì, sì, sì. Allora, cominciamo con Guerra e Pace, 1863. Mi sembra che sia, io l'ho amato molto questo libro, una grande epopea, no? Ma è anche una caratteristica, ce lo siamo detti off record, mi sembra, in una delle prime volte in cui ci siamo incontrati, in cui lo scrittore è anche molto presente dentro il romanzo, nel senso che c'è anche la sua opinione su quei fatti molto, ma molto evidente, intendiamoci, sono fatti che sono successi cinquant'anni prima, quindi è un qualcosa che ancora molto forse vivo, no? Era vivo molto nella società russa dell'epoca e quindi c'è, diciamo, mi sembra, in Guerra e Pace un tema, come dire, privato e un tema pubblico e il tema quindi anche del rapporto che c'ha Tolstoi col potere, con Napoleone, con lo Zar. Vogliamo un pochettino inquadrare Guerra e Pace all'interno dell'inizio del pensiero di Tolstoi? Sì, allora, in tutti i libri c'è l'indice, no? In cui si dice di cosa si parlerà. Ecco, con Tolstoi bisogna, l'indice è importantissimo, perché Tolstoi, insomma, ha avuto una vita molto lunga, 82 anni, 82 anni. È nato nel 28, 1828, è morto nel 1910. È morto in perfetta salute. Una settimana prima di morire, dieci giorni prima di morire, lui faceva delle corse a cavallo. A 82 anni non è facile fare corse a cavallo in autunno. Le faceva tranquillamente. Prende tutto un periodo di cambiamenti enormi, periodo in cui l'Europa si trasforma, diventa da un paese prevalentemente agricolo a un paese prevalentemente industriale tutta l'Europa, no? E anche la Russia comincia l'industria. All'inizio della sua vita non c'era il telegrafo, alla fine della sua vita c'era il cinema, per intenderci. Ecco, e Tolstoi ha questa. La vita di Tolstoi è divisa in due parti nettissime. Prima parte, Tolstoi 1, è quello che tutti conoscono, Guerra e Pace Anna Karenina. Il nobile che fa la storia della Russia e che fa la vita dei ricchi. Seconda parte, inspiegabile, inspiegabile ancora oggi, spiegabile, Tolstoi che cambia completamente idea e diventa anarchico. Dicono si è convertito al cristianesimo, ma al contrario, ha odiato a un certo punto, prima era cristiano, prima era un cristiano ortodosso rispettabile, seguiva le funzioni religiose, si è sposato in chiesa, poi è diventato il contrario di un convertito al cristianesimo, è diventato un anarchico cristiano, ma non cristiano nel senso nostro. È uno che si è ritradotto al Vangelo, che ha ristudiato la Bibbia, che ha detto le chiese imbrogliano tutti, di punto in bianco, e confrontando i due Tolstoi uno dice che sono due persone diverse. Quindi teniamo presente questo, che c'è un Tolstoi 1 e un Tolstoi 2. Un'altra cosa nel presente è che in Italia il Tolstoi 2 non è noto. Non è noto. Ci arriveremo. Ci arriveremo. Non è noto. Perché io ho cercato di fare il possibile per farlo diventare noto. In 1988 ho pubblicato un libro di 800 pagine sul Tolstoi numero 2. Il libro è stato benissimo, è stato benissimo, è stato benissimo, è stato un Oscar Mondadori. E non entra in testa, perché l'idea è che Tolstoi sia quello di Guerra e Pace di Anna Karenina e l'altro dopo non ha avuto eco. Perché? Perché dice delle cose talmente terribili che nel Novecento non potevano passare attraverso i mezzi di comunicazione generale. Cioè l'Accademia non poteva accettare quel Tolstoi lì. Può darsi che ci sia un laureato, un professore di letteratura russa, che non conosca il Tolstoi degli ultimi trent'anni della vita di Tolstoi. Perché ha detto trent'anni e un terzo dei suoi 90 volumi, sono il Tolstoi 2. Ma parliamo di Guerra e Pace. Allora, in Guerra e Pace il Tolstoi è scalpitante, è interessante, è scalpitante, è sempre stato scalpitante. Anche nei racconti di Sebastopol, ad un certo punto lui fa il racconto, che è uno dei suoi primi libri, cronista di guerra faceva, no? Da giovane, Tolstoi faceva il reporter di guerra. A Sebastopol faceva soldato, ha combattuto nella guerra di Crimea, tra l'altro contro i bersaglieri, nella battaglia della Ciornaia, del fiume Ciornaia, che dappertutto c'è via Cernaia, via Cernaia. Ecco, la via Cernaia è una citazione sbagliata, Ciornaia si chiamava così il fiume, che vuol dire nero, fiume nero. Sul fiume nero, a un certo punto Tolstoi ha avuto una serie delle sue battaglie, dall'altra parte c'erano i bersaglieri, che ha apprezzato, ha apprezzato. Se voi andate a San Martino della battaglia, vicino al lago di Garda, c'è un bella fresco sulla battaglia della Cernaia, come si dice in Italia, Tolstoi non c'è, perché non sperano che c'era Tolstoi, e l'ha fatto prima che si sapesse. Tolstoi è dall'altra parte, che sparava sui bersaglieri. Ecco, era un esperto di guerra, perché ha fatto due guerre Tolstoi. Poi ha scritto un certo punto, si è messo, si è chiuso in casa, come con grande coraggio, con il coraggio che lui chiama il coraggio della stupidità. C'è una frase di Tolstoi molto bella che dice, per scrivere guerra e pace una persona deve essere molto stupido, perché io ci ho messo dieci anni a scrivere guerra e pace. Nessuna persona intelligente dedica dieci anni a un libro. Quando il mio amico Turgenev, che abita qua vicino, fa un libro di 150 pagine al massimo, gli viene così. Io ho fatto dieci anni a scrivere quelle pagine, dieci anni. Ho rifatto nove stesure. Ed è affatto bene, perché è diventato il primo grosso best seller mondiale russo, grossissimo. E lì il suo carattere esuberante, Tolstoi, fa un'innovazione che a te non piace, che a me piace tantissimo. Lui, i primi due volumi, fa il romanzo normale, sono quattro volumi di guerra e pace, duemila pagine. I primi due volumi fa il romanzo normale. E uno legge le storie di Andrei, di Pierre, di Natascha. A un certo punto, nel racconto, lui dice, beh, adesso basta. Adesso qui si parla di Napoleone che arriva in Rusi. Tutti gli storie... e comincia il Tolstoi. Primo annuncio del Tolstoi 2. A un certo punto il lettore di guerra e pace si vede che dal libro salta fuori un tizio, a quel tempo con la barba nera, alto 1,80, fai conto, Tolstoi, col vocione, con la camiciona russa scura, esce fuori e comincia a prendersela con il lettore. Scombinando completamente la tradizione letteraria, perché la tradizione letteraria è il narratore, deve stare lì tranquillo da parte. Sa tutto di tutti, però non deve esprimere le sue opinioni. Si vede quello che... le sue opinioni si vedranno da quello che dice, insomma. Però nel narratore, anche il narratore Dostoevsky, è uno che dice, sì, io so le cose e poi vedi tu. Pensala tu come ti pare. Dostoi, nel terzo volume, entra e dice, non pensarla come ti sembra a te. Ti dico io cosa pensare di Napoleone. Gli storici dicono che Napoleone era un uomo di potere. Ma cosa vuol dire potere? C'è uno storico che mi sa spiegare cosa vuol dire potere? Cosa vuol dire potere? È una balla. E comincia ad aggredire tutta la storiografia su Napoleone. È una balla questa. Non esiste il potere personale. Cos'è Napoleone? Napoleone è un turacciolo. C'era un'ondata di migrazione. I francesi volevano migrare, come tante volte era successo prima, verso Oriente. idea stupida. Però era un'idea naturale. Come ci sono le stagioni, ci sono le migrazioni dei popoli. E lui era lì e c'era immagina un'onda con un turacciolo davanti. Tutti dicono Napoleone, Napoleone, Napoleone era bravo. Napoleone era il turacciolo spinto dall'onda. Non era niente Napoleone. Non capiva niente. Ha sbagliato. E comincia a contrastare tutta la storia di Napoleone. Ed è divertentissimo. Perché uno che se la prende con tutti sembra un talk show in mezzo a un romanzo. Però è un talk show con una persona sola. Dopodiché sta zitto e dice comunque Pier in quel periodo, non protagonista, Pier faceva questo. Il principe Andrei. Poi a un certo punto non ne può più. Ancora scalpita. Dice però tutti quanti dicono che Cutuso fa salvato il generale che ha sconfitto. E lì si sente che sta scalpitando. Però si tiene ancora a bada. Quando è uscito Guerra e Pace in volume, 1870, stesso anno in cui è uscito l'idiota di Dostoevsky, pensa in libreria che effetto poteva fare. C'è Guerra e Pace del conte Lev Talstoi e c'è l'idiota di Dostoevsky. Che in russo non c'è l'articolo, tra l'altro, come in latino. Perché veniva fuori sulla copertina Fyodor Dostoevsky, idiota. Un libro autolesionista al massimo. Con accanto Guerra e Pace. Naturalmente ha stravinto Guerra e Pace. Ha stravinto. È stato un successone. E lì ha avuto... Poi si è messo calmo. Poi si è messo calmo. Per Anna Karenina lui dice solo all'inizio fa una sentenza e poi continua, poi fa il suo mestiere di narratore. Sta buono, sta buono, sta buono. Fino a che dentro di lui le forze prepotenti, pettegole, polemiche, cominciano a premere, 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 poi esplodono. E perché non si sa Dostoevsky numero due? Pensato al fascismo. Fino al 1915, in Italia, prima della Prima Guerra Mondiale, tutti leggevano Dostoevsky numero due. Perché c'erano case editrici, per esempio, la Barion di Seso San Giovanni, che pubblicava Dostoevsky numero due a tutto spiano, articoli, saggi, romanzi, perché era fuori diritti. Perché Dostoevsky a un certo punto ha detto le mie opere sono tutte fuori diritti. Vado dal notaio e faccio questa affermazione qua. Io rifiuto i diritti d'autore sulle mie opere. Chiunque le vuole pubblicare sappia che le può pubblicare gratis, senza dovermi neanche un soldo. Io sono già ricco per conto mio. Nessuno l'ha fatto nel mondo. Nessuno l'ha fatto. Allora, tutti quanti editori piccoli sono messi a pubblicare Dostoevsky, che era pericolosissimo, pericolosissimo. Perché secondo Dostoevsky le leggi degli stati erano imbrogli. La chiesa era un... Dostoevsky numero due. Erano imbrogli le leggi, le religioni, le convinzioni della della borghesia. Erano tutte... La tour Eiffel. Erano tutti imbrogli, imbrogli, imbrogli. Però a me sembra, Igor, che nel saggio su Anna Carienina che ho letto, che hai scritto, sottolini come questo romanzo che è del 1871, no? Quindi da otto anni da da guerra e pace, ci sia una, come dire, in fondo presente, già in nuce il, come dire, il Tostoevsky che poi esplode, e poi ne parleremo adesso nel proseguo del nostro incontro, dal 1881 in poi, no? Cioè nel senso che in qualche maniera sembrerebbe che Anna Carienina, un po' come come Flaubert, se mua. Cioè nel senso che in qualche modo c'è... è una signora dello scandalo, ma che al tempo stesso, attraverso questa storia, mi sembra di capire che Tostoevsky pone il problema in Anna Carienina anche della condizione della questione femminile in Russia. Perché... mica tanto questo. Tostoevsky la questione femminile lo sente fino a un certo punto questo problema qua. Perché non gli suona ancora, è una roba troppo di sinistra comunque, è sempre rimasta nella sua vita la questione femminile. Anna Carienina è la Bovary russa, è una che è sposata bene, solo che a differenza di Madame Bovary, che è sposata con una molto mediocre, no? Con il signor Bovary. Invece Anna Carienina è sposata con il signor Karenin. Karenin, no? Per bene, no? Importante, potente. Lei dovrebbe essere felice. Ha un problema, Karenin, ha le orecchie... ha svento. Però lei non ci fa caso perché non guarda le orecchie. Si accorge delle orecchie anche di Karenin quando conosce Vronsky. Treno, neve, una sosta durante il viaggio in ferrovia. Conosce questo ufficiale, Vronsky. Ecco, Vronsky ha le orecchie a posto. Vronsky alla mattina, come colazione, mangia un filetto e beve una bottiglia intera di Bordeaux. Si pensa che metabolismo che ha. Cioè un filetto, 300 grammi di carne e una bottiglia, 0,75 litri di vino a 13, 14 gradi. Colazione della mattina, con i baffoni, forte, robusto, un torace così, lei si innamora. E il fratello di Anna Carienina scopa a destra e a sinistra. La sua ambiente è del tutto immorale. I ricchi hanno le loro avventurette, eccetera. Per cui, a un certo punto nel romanzo, non si capisce, ma perché la signora Karenina non può fare come gli altri? Perché non può adattarsi ad avere una storia fuori? Anche il marito la capirebbe, anche lui ha storie fuori, la capirebbe. Sai, altra società hanno un sacco di impegni, possono anche non vedersi per due o tre giorni di fila ai coniugi. Quindi lei, perché si fa tutti questi problemi? Perché alla fine arriva a uccidersi? Perché si separa? Perché non riesce a… perché vuole essere autentica? Ecco, e lì si sente il tuo Tostoi numero due. Tostoi che dice, io sono a posto, va tutto bene, sono sposato con me, io sono un nobile, ho successo, a casa non c'è problema per i prossimi duecento anni, non c'è problema in casa mia, ho un sacco di figli, stanno tutti bene, i miei seri vogliono tanto bene, io mi occupo anche di istruzione popolare, apro le scuole e le insegno io a scuola, faccio io il maestro elementare e mi trovo benissimo, faccio delle cose pedagogiche, sono felice, sono tranquillo, mi vorrei ammazzare. Devo nascondere il fucile da caccia? Me lo sono nascosto io, racconta nei diari, perché vedendo sto fucile io un giorno mi sparo perché non sono autentico. io così non posso vivere, non si può vivere così, sono felice e sono disperato. Questo continua. per esempio in guerra e pace anche già c'è un altro annuncio di guerra e pace, che ancora è lontanissimo dalla trasformazione di Tolstoi, c'è il personaggio principale che si chiama Pierre, che è uno nobile. Un omone anche lui, anche lui un omone come era. Un omone grosso, un omone grosso però fortissimo, che sapeva piantare i chiodi con le dita. Cioè, guarda che è difficile. Cioè, se tu provi a piantare un chiodo con le dita, non si riesce. Ci vuole un martello. Lui aveva una forza tale, si sapeva piantare. Ed è un nobile. E anche lui è felice, ricchissimo, è a posto. Però quando viene preso prigioniero dai francesi, si accorge che c'è un altro modo di vivere che è bellissimo, che lui non conosce. Vuole vivere libero. Parlando con i prigionieri, con dei prigionieri, si accorge che la gente del popolo sa delle cose che lui non ha neanche la più parida idea, che c'è un modo di guardare la natura, c'è un modo di guardare la morte, la vita, che lui non sa. E lì cambia completamente. Però è un attimo. Poi finisce la guerra con Napoleone e lui ritorna un ricco, tranquillo. Anna Karenina muore alla ricerca della sua autenticità. Trostoi dopo Anna Karenina, il periodo in cui nascondeva il fucile, e poi decide di spaccare tutto. Ecco, c'è una data che mi sembra che vada inquadrata, che è il 1881, che è l'anno in cui c'è la crisi spirituale, in pratica. E in qualche maniera sarebbe interessante capire, adesso per arrivare a questa crisi che ha a che fare fortemente, anche con il cristianesimo che è fortemente radicato nei russi, e quindi come tale è un elemento importante. Ecco, ma come è arrivato Tolstoi da integrato nel sistema a diventare un outsider? E come mai, questa è la seconda parte della mia domanda, il suo tema e la sua crisi spirituale e la sua inquadramento passa attraverso la religione. Cioè, questo elemento religioso in Russia, il misticismo, no? Sembra essere qualcosa di fortemente radicato e al tempo stesso qualcosa intorno a cui l'evoluzione, diciamo, la rivoluzione del pensiero di Tolstoi passa. Sei d'accordo? Puoi un po' spiegarcelo? Visto che è un aspetto della personalità di Tolstoi che forse chi ci ascolta conosce meno. Allora, sì, conosce meno perché, appunto, queste cose qui andavano bene fino al 1915 per tutto il fascismo. Il fascismo ha taciuto, su Tolstoi numero due, i professori di università che sono nati durante il fascismo, non per loro cattiveria. Il mio professore di università non è per sua cattiveria che ignorava il secondo Tolstoi, ma non gli veniva, perché erano cresciuti in un mondo che aveva lasciato delle forti tracce di obbedienza allo Stato, alle leggi dello Stato. Per Tolstoi il cambiamento comincia durante il censimento. Appunto, lui collabora al censimento, i nobili ogni tanto collaboravano, per andare a fare, per censire la popolazione. Allora va a vedere in città, a Mosca, la popolazione da censire e vede delle cose spaventose. Cioè, vede quello che Dostoevsky vedeva benissimo, e Tolstoi non amava Dostoevsky in quel periodo. Vede la miseria, vede la gente che vive in un modo da terzo mondo, naturalmente. Tolstoi non aveva mai vissuto in questo modo, cioè c'era una raffinatezza nell'aristocrazia russo, a un buon gusto, eccezionale, lui rimane stordito dai dati che vede la popolazione. Dice, ma come ho fatto io a sopportare di essere così ricco quando ci sente così povera? E povera, ma non all'altro capo del mondo, non in Malesia, a otto isolati da casa mia. Cosa è successo? C'è qualcosa che... e lì c'è una crisi sua, che è uno sbocco, naturalmente, una crisi che tu hai già da un po' di tempo, il fucile che non lo scandeva già prima. A un certo punto si incazza. Cioè la chiave di Tolstoi in tutti i suoi grandi capolavori è l'incazzatura. Lui è una... è niente, è una persona dell'Ottocento, per cui impetuoso. C'è il termine russo che è spilcivi, che non so come sia in italiano. Uno che ha degli slanci improvvisi, prende fuoco praticamente, e li prende fuoco. Però prende fuoco non contro gli storici, come in Guerra e Pace, non contro i moralisti, come in Anna Karenina, ma contro tutto. Perché dice, qui ci deve essere un colpevole, per cui la maggior parte della gente sta così male. Questo colpevole è tutto. Allora, vediamo un po'. Io sono cristiano, io mi sono basato, per quello che riguarda la regione, su quello che mi ha detto la Chiesa. La Chiesa mi dice questo e quest'altro di Gesù, religione dell'amore, eccetera, eccetera. Ma chi è amore? Ma dov'è sta amore? Qui condannano la gente alla galera. Qui c'è, per tenere a bada sti poveri, qui si fa una politica terribile. Che schifezza, che strano. E la gente, invece di... la gente fa finta di niente. I miei pari, i nobili, ma anche gli intellettuali, fanno finta di niente. Ma com'è possibile? E da fuori da matto. Da fuori da matto e dice, forse sbaglio. Forse sbaglio io. Forse sono pazzo. Forse l'importante è che devo perfezionarmi. Poi capirò e perdonerò tutto. Quindi cominci a inventare vegetariano, si sistema dieteticamente. Poi dici, no, 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 non sono io. Qui non è che sono io che sono strano, sono loro che sono pazzi. Perché la natura è fatta bene. L'uomo è fatto bene. La gente è fatta bene. Però alcuni sono trattati da schifo. E sono trattati da schifo e gli altri sono indifferenti. Perché sono indifferenti perché non hanno una base filosofica, non hanno una base religiosa. La religione attuale, e qui c'è l'equivoco forte, tanti biografi di Tolstoi dicono che a un certo punto lui è diventato religioso. No, no, no. Lui era religioso prima. A quel punto lui ha smesso di essere religioso. E dice, ma è possibile che il Vangelo dica quello che dicono i preti? Allora, ha preso la traduzione russa del Vangelo, che tra l'altro è migliore della nostra, migliore della nostra, è più antica. Cioè la traduzione russa è del mille, l'anno mille. Invece la nostra è arrivata molto più tardi nella traduzione in lingue popolari. Pensa quando Lutero ha tradotto in tedesco le Sacre Scritture, l'hanno scomunicato. Ecco. Invece in Russia le Sacre Scritture si leggevano tranquillamente, c'erano mille. E Tostoi dice, però è sbagliata. Questo qui fa non passare sto Cristo come un tizio che fa dei miracoli e che si spiega male. Perché se uno legge il Vangelo, vede che questo gli fa, moltiplica i pani, moltiplica i pesci, cammina sulle acque. Però non dice niente di concreto, perché quello che dice non si capisce niente di quello che dice. Qui qualcosa non va. Allora si impara il greco, studia il greco, può, chiama il maestro di greco, il professore di greco, si è greco e si ritraduce ai Vangeli. E si arrabbi. Ci hanno imbrogliato. Ci hanno imbrogliato. Scusa, un'osservazione. Mi sembra che sia abbastanza centrale in questa rivisitazione dei Vangeli, discorso della montagna del Vangelo di San Matteo. Altro che, ma non solo quello che dice sui miracoli. A questo punto gli dice, vedi che ha tradotto sbagliato? È tradotto sbagliato. Non dice così. Porca miseria. Brutti imbroglioni. Adesso gli faccio vedere io. E comincia a scagliarsi contro la religione. Poi siccome in Russia religione e potere vanno molto di pari passo, già che c'è, si scaglia anche contro lo Stato. A questo punto si ritrova a scagliarsi contro lo Zar. Naturalmente già nei guai a quel punto, gravemente nei guai. Alla casa è sorvegliata. Non possono fargli niente a lui. Perché è troppo famoso. Pubblica all'estero. Qualsiasi suo articolo nel giro di una settimana usciva sul Times, per intenderci. Non possono arrestarlo. Lo Zar dice, Alessandro III come Zar era bravino, lo lasciava fare. Nicola II, che era un cattivissimo, non può far niente contro Tostoi. Non può far niente. Lui dice, lascialo scrivere. Lascialo scrivere. Però, i suoi collaboratori, i suoi amici, li arrestiamo tutti. Tostoi aveva questo problema che c'era. Qualcuno lavorava per lui, lo aiutava a trovarlo, poi è arrestato. Perché è arrestato? Perché collabora contro Tostoi. Scusami, c'è una parola che mi ha colpito nel tuo tuo saggio su Tostoi che è il Tostolianesimo. Tostolianesimo. Ecco, io credo che a questo punto per capire anche la la rabbia dell'establishment nei suoi confronti, ma anche il successo che lui ha avuto con questa, diciamo, con questi pamflet, con questi saggi che ha pubblicato soprattutto all'estero, credo, ma comunque che venivano poi anche letti in Russia. Proviamo un po' a capire i contenuti specifici del Tostolianesimo. Ah, non ha una struttura, non ha un sistema. Tostolianesimo... Aspetta, aspetta, ti aggiungo una domanda che forse ti può aiutare. Ma qual è il mondo perfetto per Tostoi a questo punto? Inizio di guerra, inizio di ressurrezione. E' una bellissima giornata. Le... gli alberi erano bravi, le bestie erano brave, l'erba era brava, c'erano questi stronzi di uomini intorno, che erano nei guai. Ecco, perché? Perché non erano sinceri, perché non sanno farsi le domande. Loro pensano che vivere sia far finta, adattarsi a quello che fanno gli altri. E così sprecano la vita. Sprecando la vita devono difendere il loro comportamento e si uccidono gli uni con gli altri. Questa è la base di Tostolianesimo. Il Tostolianesimo è la gente si droga, non si droga soltanto con la cocaina, che a quel tempo cominciava a arrivare, o con l'alcol, o... no, si droga anche col fumo, con le sigarette, si droga col caffè, si droga col cibo, si droga soprattutto, la droga peggiore di tutti sono i giornali, si droga con i giornali. La gente è drogata di giornali, crede nei giornali. Prendiamo, famoso saggio, 1890, la Tour Eiffel. Guardate la Tour Eiffel. a cosa serve questa schifezza? Uno costruisce quanti operai ci sono voluti a fare la Tour Eiffel, quanti quintali di ghisa, per fare che cosa? A cosa serve? C'è qualche persona che mangia meglio da quando ha fatto la Tour Eiffel? C'è qualche bambino che è più contento? No, non serve a niente. E tutto il mondo, il progresso, sta andando verso qualcosa di del tutto inutile che ti costringe a faticare sempre di più per comprarlo. Per qualcosa di inutile. Molto moderno in questo senso. Molta miseria. Modernissimo. Di chi è la colpa di questo? Di chi è la colpa? Tutti dicono, famoso saggio, di chi è la colpa? Tutti dicono è colpa dello Zaro. Lo Zaro ammazza un sacco di gente ma cosa volete che faccia lo Zaro? Lo Zaro lo conosco, è un altro così, non capisce niente, cioè è molto limitato, una persona molto limitata, debole, che vorrebbe fare una vita privata, tranquilla, è capitato lì per il posto sbagliato. La moglie, la moglie si occupa solo di Rasputin, figurati, la moglie non capisce niente, non è lo Zaro. Allora chi sono? Sono i ministri. Ma i ministri, tanti sono miei parenti, cioè sono parenti di miei amici, i ministri sono gente che si fa nei suoi affari, però guardate le proporzioni, 180 milioni di russi, 800 ministri. Come fanno 800 a tenere a bala 180 milioni di persone? Che poi, io li ho visti, hanno la pancia così, hanno delle braccia magrine che sembra che abbiano dei bastoni invece delle braccia. Avete mai visto un russo, un mujik russo, con due manacchi mette li fa fuori, quindi non sono loro. Chi sarà? Sarà il Parlamento, stesso discorso. L'esercito, ecco l'esercito, forse l'esercito. L'esercito permette allo ZAR di esprimere il suo volere e opprime la popolazione. L'esercito è l'esercito più potente del mondo, l'esercito russo. Cos'è un soldato? Dice Trostoy. L'esercito è fatto di soldati. Cos'è un soldato? È una persona come noi? No! È diverso perché ha un uniforme alle armi. Le ha pagate lui? Le uniforme alle armi? No, non ha i soldi. Lui ha delle armi molto potenti che gli servono a tenere a bada 180 milioni di persone. Mitragliatrici, cannoni, bombe, fucili, spade. Ma non le ha pagate lui? Chi le ha pagate? Lo ZAR? No! I ministri. Ma i ministri guadagnano, non pagano. Chi? La regina, la zarina? No! Qualcuno ha pagato le tasse ultimamente, vero o no? Tipo tu, lettore che mi leggi, hai pagato le tasse. A quale sono serviti i soldi e le tue tasse? A pagare quei fucili e quei cronici che ti tengono adesso e che ti possono ammazzare anche a te. Capisci qual è il problema? Tu cooperi alla tua oppressione. Io direi smettiamo di pagare le tasse. Questo è un saggio famosissimo di Tolstoi che naturalmente in Italia non poteva comparire durante il fascismo e non può oggi. Perché se uno pubblica questo saggio oggi, infatti, non penso che sia per questo che Le Mondadori non ripubblica quel libro, però forse anche. Ecco, Igor, però, la descrizione che fai del, diciamo, del pensiero, molto rivoluzionario, se vogliamo, rispetto all'establishment russo dell'epoca o quantomeno a quello che rimaneva, perché appunto Tostoi vive in un'epoca di passaggio, no? Cioè, dove in qualche modo già il potere zarista è incrinato, è in difficoltà, però arriva come età, no? Nel 1910 arriva, come dire, al filo della rivoluzione russa. Ecco, ma in qualche maniera quale rapporto si può vedere tra Tolstoi e i movimenti che poi hanno portato, diciamo, al crollo del mondo in cui poi Tolstoi era nato. Bella domanda. Allora, la rivoluzione russa è stata prevista da due persone, ma proprio nettissimamente. Uno è Dostoevsky, l'altro è Trostoi. Dostoevsky nei demoni dice qua arriverà qualcuno che in confronto Gengis Khan farà ridere, qua arriverà qualcuno che farà fuori centomila persone così, no? Quel qualcuno avrà questa ideologia e nei demoni spiegano. È con 40, 50 anni di anticipo, no? Tostoi arriva un po' dopo, arriva un po' dopo, Tostoi si innamora di Dostoevsky quando Dostoevsky è già morto. Tostoi era molto narcisista, non avrebbe mai sopportato di avere una conversazione con Dostoevsky perché sarebbero stati alla pari. Però, morto Dostoevsky nel 1881, Tostoi comincia a leggerlo con interesse, anche perché coincide con la sua crisi e dice porca miseria l'avessi conosciuto prima. E Tostoi a un certo punto è una delle sue lettere, uno dei suoi saggi favoriti che ha ripetuto diverse volte era la lettera allo zar. Qui faceva delle lettere aperte allo zar pubblicate in tutto il mondo e anche in Australia, anche in Sudafrica dove le leggeva con grande interesse il giovane avvocato Gandhi che poi ha messo in pratica queste cose ringraziando pubblicamente di Tostoi. Lui Tostoi scrive allo zar caro zar tu adesso stai andando verso un baratro o tu cambi o ti fanno fuori e non potrai fermare quello che succederà. Non potrai fermarlo. Qualsiasi cosa tu possa fare se le strutture restano queste se non cambi la situazione che è urgente non solo per me anarchico ma dal punto di vista anche economico perché Tostoi molto illuminista diceva io ho le mie idee spirituali però anche io sono un proprietario terriero so cosa vuol dire quando l'azienda non funziona e caro zar la tua azienda non funziona sarà un crollo da quel crollo tu non ti salvi non salva nessuno Tostoi lo sentiva questa cosa nel frattempo c'erano i socialdemocratici quelli che hanno avevano ucciso il nonno di Nicola II i terroristi russi famosi dinamitardi eccetera che preparavano la rivoluzione Lenin c'era già Lenin c'era già era in Svizzera leggeva Tolstoi e diceva porca miseria se danno retta a questo qua la rivoluzione non la si fa il motto di Lenin era stato da quasi subito tanto peggio tanto meglio noi facciamo gli attentati dicevano i rivoluzionari russi ma non ammazziamo il proprietario terriero cattivo non ammazziamo il ministro bravo cioè non ammazziamo il ministro cattivo noi colpiamo il ministro moderato gli spariamo noi spariamo al granduca che è buono noi spariamo al proprietario terriero medio perché vogliamo che tutto quello che può salvare la situazione attuale in Russia sparisca e rimangano solo i cattivi purtroppo c'è Tolstoi che ci rompe le scatole morrisse in fretta sto vecchione perché se la gente darete a Tolstoi non salta fuori più la rivoluzione che vogliamo fare noi poi vabbè si è messa così la cosa Tolstoi era morto da quattro anni e comincia la seconda la prima guerra mondiale un altro che aveva previsto la rivoluzione russa era stato Rasputin che aveva detto allo zar non entrare in guerra se no è la fine lo zar però odiava Rasputin e entra in guerra durante la guerra a un certo punto comincia a capitare una cosa che poi si è ripetuta negli Stati Uniti in modo molto più dolce durante la guerra di Vietnam sai ti ricordi quando strapavano la cartolina ecco Cassius Clay bruciava la sua cartolina militare una generazione lì si è ribellata la guerra in Russia comincia una cosa che i soldati sparano gli ufficiali dice qui abbiamo capito cosa dovete fare dovete ammazzarci tutti come a Verdun come stanno facendo in Occidente massacrano la gente per avere più posti di lavoro libero e risolvere il problema della disoccupazione ma noi siamo mica scemi tu ufficiale ci porti all'attacco in questo modo vai tu appena ti volti ti spariamo in quattro e nessuno si accorge nella polvere nel fumo di chi è che ti ha ammazzato e cominciavano il crollo del fronte russo crollo totale anche per sconfitte e questi cavano in taschi di Tolstoi perché Tolstoi era quello che diceva la guerra ha una bella idea Tolstoi dice la guerra quando succede la guerra può succedere solo in un caso quando la gente nella sua maggioranza pensa che l'unica forza morale sia quella dello Stato quindi bello come idea cioè se ci fossero altre forze morali non so l'ideologia la religione la fratellanza eccetera le guerre non potrebbero capitare la guerra capita quando la gente cede e pensa l'unica come adesso in Italia pensa che l'unica forza morale che esista sia quella dello Stato se lo Stato dice questo tutti quanti la Chiesa dice lo Stato ha ragione la gente dice lo Stato ha ragione l'unica forza morale dello Stato si fa la guerra ecco qui vi fregano dice perché ci sono altre forze morale che devono esistere naturalmente questi qua i librettini di Tostoi del secondo Tostoi erano 40 pagine scritti grossi costavano poco poche copie cioè quando giravano in Italia costavano poche lire pochi centesimi anzi e poi giravano intorno no venivano riprodotti cipostilati così no poi sentivano Tolstoi ha detto non bisogna combattere era già morto però la bravura di Lenin di Stalin di Trotsky è stata quella di far dimenticare momentaneamente Tolstoi perché se Tolstoi fosse stato ricordato nel 17 la prima rivoluzione a febbraio e niente la Russia aveva tutta un'altra vita penso che Tolstoi nell'aldilà si sia arrabbiato tantissimo di questo furto la rivoluzione poteva essere la sua poteva essere lui però è stato così rapido Lenin una bravura un tempismo pazzesco che ha avuto e così torpidi sono stati gli intellettuali russi a farsi fregare questa situazione che la Russia non ha fatto una rivoluzione Tolstoiana ha fatto una rivoluzione leninista chi ha fatto la rivoluzione Tolstoiana è stata Gandhi Gandhi che ha avuto una corrispondenza forte con Tolstoi densa gentile Conte Tolstoi la scrivo la scrivo dal Sudafrica io sono un avvocato che vorrei liberare la mia patria e sono incerto se intraprendere o non intraprendere questa lotta rivoluzionale Tolstoi gli dice guardi se lei intraprende una lotta rivoluzionale sono conservate queste lettere se lei intraprende questa lotta rivoluzionaria con la violenza lei non farà altro che riprodurre un meccanismo antico lei dovrebbe sfruttare la non violenza e Gandhi dice ma cos'è che lei intende per non violenza e Gandhi stesso anche nel film Gandhi si parla di Tolstoi un altro era Martin Luther King per esempio tutta gente che certo Tolstoi è uno sconfitto perché ha avuto un trionfo negli anni 90 negli anni soprattutto negli anni 90 il giorno è uscito sulle Figaro mi sembra una vignetta a Parigi che c'era uno zar Nicola II piccolino così che correva scappava via e accanto un Tolstoi enorme che lo stava rimproverando tutti quanti dall'estero dicevano la Madonna ma cosa sta capitando i russi naturalmente gratanti imitatori cioè noi d'annunzio il nostro d'annunzio è spiegabile con Tolstoi l'annunzio ha fatto il d'annunzio perché Tolstoi gli ha aperto la strada Emil Zola gli ha aperto la strada Tolstoi Chesterton George Bernard Shaw tutti quanti tutta gente che ha detto lo fa lui facciamo anche noi è come dire erano i Pasolini di allora ecco erano i Pasolini di allora e Pasolini c'è stato a suo tempo e Pasolini non penso che conoscesse Tolstoi penso proprio di no però per esempio Don Milani ai tempi di Pasolini famoso Don Milani era un Tolstoiano convinto metteva in pratica tutte le regole di Tolstoi solo che Don Milani picchiava i ragazzini e Tolstoi non picchiava i suoi allievi ha avuto questo naturalmente in Italia non si sa questa roba per cui chi ci ascolta dirà ah sì ma guarda non lo sapevo dove posso leggere qualcosa non si può leggere niente su questo argomento non c'è niente su questo argomento Tolstoi attualmente è ancora outsider se vuoi approfondire il Tolstoi dal 1880 90 in avanti non hai il modo non hai il modo a meno che tu non sappia il russo allora vai in una biblioteca prendi gli ultimi 30 volumi delle 90 volumi dell'opera completa di Tolstoi e te li leggi e te li leggi e dici ma porca miseria ma come mai l'umanità si è persa questa occasione ecco un'occasione è anche quella di parlare di un libro difficile che piace forse meno e che rappresenta in qualche maniera il frutto del Tolstoi più maturo che è io passo anche attraverso la morte di Ivan Illich personalmente ma comunque che è Ressurrezione io credo che l'abbiamo detto nel titolo lo varrebbe la pena avviandoci alla conclusione del nostro incontro di parlare un pochettino di Ressurrezione come si inserisce in questo quadro di pensiero che hai che hai esposto dunque allora Tolstoi 1893-94 c'è una carestia in Russia una carestia e lo Stato non interviene cioè Riccola II cioè lo Zard di allora Sandro III non interviene ancora fa qualcosa ma poco l'altro Stato dice beh ci penso io invento un nuovo tipo di pane pago io e salva qualche centinaia di migliaia di persone dalla morte per fan naturalmente ha una un eco spaventosa questa cosa con tanti ostili tanti a favore poi c'è un'altra faccenda lo Stato qui già Nicola II Nicola II che è stato fatto santo dalla chiesa ortodossa ovviamente c'è San Nicola II in Russia lo Secondo era un grande persecutore delle minoranze religiose c'erano a quel tempo per esempio i Molokani cioè i bevitori di latte o i Dukobori che erano i lottatori dello spirito letteralmente che erano due correnti religiose cristiane non violente cioè non ammazzavano gli animali si chiamano Molokani i bevitori di latte perché non ammazzavano gli animali non volevano portare armi allora quando c'era la leva loro dicevano no io non vado a fare soldato ti ammazzo e ammazzano ma io non prendo in mano un'arma non prendo in mano neanche la scura per ammazzare i poli in Russia i poli si tecapitano si tira il collo non io non ammazzo nessun animale ecco lo Zali ha deportati tutti questi che voleva deportare in Siberia perché morisse deportare non vuol dire metterli su un treno vuol dire farli andare a piedi famiglie intere Tostoi si arrabbia e dice no perché non li volete più mandiamoli via non hanno i soldi per prendersi una nave e un pezzo di territorio all'estero glieli compro io io noleggio la nave e gli prendo un pezzo di Canada cosa che ha fatto solo che non c'ho i soldi allora scrivo un romanzo facciamo risurrezione do un po' che ce l'ho in mente faccio dare l'anticipo subito tanto sarà tutti sanno che sarà un bel seller no dopo quei retaggiano un altro romanzo lungo ecco mi danno i soldi io questi soldi li prendo e li do subito a questi qua mio figlio noleggia la nave e lì poi dove in Canada questi vivono ancora lì discendenti di questi sono ancora lì hanno un russo un po' diverso da quello attuale perché sono partiti prima dell'invenzione della macchina fotografica non hanno il termine per indicare macchine fotografica io lo so vabbè posso fare una notazione lo stesso vale per il patois di Gressonay nel senso che è un vecchio con vecchio tedesco ma manca per esempio la parola carta da lettere o franco bollo e io quando ero ragazzino a Gressonay sentivo i valigiani che entravano dal tabacchino e chiedevano Hans Weidrein in tedesco e poi dicevano franco bollo perché mancava la parola certo e lì perché sono rimasti esclusi dalla tecnologia dallo sviluppo della lingua perché sono partiti con la nave di Trustoi sono andati potrebbe essere santo Trustoi ecco e Ressurrezione che cos'è? Ressurrezione è una bella bellissima storia un romanzo che a me piace tantissimo anche se la seconda parte è un crollo totale non è traducibile non ho mai tradotto non lo tradurro mai perché di una difficoltà cioè il russo è perfetto però mette a durissima prova la capacità del russo come una lingua come che ha i casi di fare frasi molto lunghe che non sono pesanti per niente che non sono però trasformabili in italiano per cui sono frasi di nove dieci righe con strutture a piramide architetture che il russo va benissimo in Italia non si può ed è la storia di un nobile pigro tranquillo che sta per sposarsi a un certo punto lo chiamano a fare il giurato che palle devo fare il giurato devo andare a stire stire lui va a fare il giurato incontra parenti cioè incontra amici altri nobili e portano dentro gli accusati di omicidio tra gli accusati vede una ragazza poi grassata la riconosce una ragazza che lui aveva non violentato perché si era innamorato da ragazzo da ragazzino lui di questa però se l'era fatta da ragazzino lei è rimasta incinta e lui poi pensando beh lei è una serba io no ha avuto un dubbio dice no vada per il suo destino lei ha avuto il suo destino è finita in una casa di tolleranza è diventata una prostituta è stata coinvolta in un omicidio adesso lui se la vede davanti ma lei non sarebbe finita in una casa di tolleranza se non fosse stato per colpa sua allora lui entra in crisi dice colpa mia allora cerca di salvarla va a trovarla è bellissima la scena in cui quando va a trovarla perché lei lo riconosce e praticamente dice ma tu cosa vuoi ancora stai in giro lui si aspettava di essere il liberatore no dice pensa adesso ti sposo ti salvo no sposi no tu mi hai già piantato una volta ma lo sai che sono venuta a cercarti con l'ombrello che pioveva quando passava il tuo treno ti ho visto nel finestrino tu stavi giocando a carte con gli altri e io ero già incinta e tu ma poi adesso salti fuori ah vuoi sposarmi per il pentimento il pentimento ti interessa io non sposo uno che si è pentito non voglio essere sposata per pentimento e lo tratta malissimo lui però insiste insiste cerca di parla con tutti va dai ministri e non si riesce non si riesce allora lei viene deportata non c'era la pena di morte in Russia a quel tempo viene deportata allora parte anche lui si fa tutto il viaggio in treno vede la condizione dei deportati poi si fa tutta la camminata anche lui e il finale poi leggeranno i lettori qual è però è il tentativo il libro romanzo sulla disperazione disperazione perché lui vuole rimediare un danno fatto e si accorge che non è possibile è uscito nel 1901 1900 contemporaneo dell'interpretazione dei sogni di Freud praticamente ed è un'introduzione al secolo ventesimo perfetta hai fatto il casino adesso non rimedi più qui è proprio l'immagine del principe Nechliudov che era un vecchio personaggio di Trostoi giovane compariva già al principe in uno dei suoi racconti giovanili ecco grassottello bello belloccio diciamo no ecco che ha una risurrezione interiore del tutto inutile perché lei non gli dà retta mi sei falso Trostoi sentiva questa falsità c'è anche questo elemento di autenticità essendo molto autentico lui non ha affatto il fascista o il comunista o il nazista che fa finta di credere in tutto quello che dice lui aveva le sue idee anarchiche però diceva ma è vero o no ma servirà qualcosa o no e da voce anche al dubbio la risurrezione è stato il suo terzo grande best-sell molto più ottimista anche se fa piangere tanto è la morte di Vanilic la morte di Vanilic un pochino prima è la storia di un giudice istruttore che si occupa proprio della deportazione delle minoranze religiose che mettendo a posto la casa non leggetelo se dovete riarredare la casa perché è terribile come romanzo lui sta attaccando le tende scendendo dalla scala scivola per tre gradini e cade in piedi però gli fa molto male un rene tanto male dice ho preso una una sciattica o qualcosa e passerà poi non passa peggiora sempre peggiora sempre peggiora sempre peggiora sempre e c'è questa scena che lui è ricco naturalmente alla moglie che lui non ama e che non la ama ma si è rassegnato al figlio che non lo ama e che lui non ama ma si è rassegnato e alla figlia che deve sposarsi e non ancora il pretendente e mentre lui urla in casa perché il dolore al rene è terribile per cui urla la figlia non può ricevere i pretendenti ed ha fastidio urla una settimana urla due tre quattro da un po' fastidio uno che urla non c'erano i calmanti allora e a tutti gli rompe un po' le scatole lui capisce che sta rompendo le scatole a tutti a questo punto capisce che non è questione i medici dicono ma sai è un problema il rene mobile dice no non è il rene mobile è la morte e adesso che fine faccio io e via via che passano i giorni che lo separano dalla morte lui pensa che vita di merda che ha fatto non c'è niente cioè sarebbe bello avere affetti qualcosa da ricordare che non ho visto per niente fino all'ultimo istante all'ultimo istante e qui una persona che sta leggendo il romanzo e non piange è perché ha un cuore di pietra che neanche tu potresti sciogliergli a un certo punto lui capisce una cosa che ha avuto torto che ha sbagliato tutto il romanzo si intitola La morte di Vanellice e lì l'autore dice in quel momento finì la sua morte la morte di Vanellice era stata tutta la sua vita gli ultimi venti minuti sono stati la sua vita vera ma erano fuori dal tempo lui è morto felice perché si è accorto di aver sbagliato all'ultimo momento si è potuto accorgersi prima però non importa perché si è accorto all'ultimo momento e per la gente fuori che lo guardava morire sono stati i venti minuti ma per lui è stata l'eternità il momento radiosa bellissima il dolore non lo sentiva neanche più chiuso il romanzo c'è Ressurrezione che è pessimista Morti Vanellice che è terribile ma è ottimista dipende da Tolstoi che fine ha fatto se ha fatto la fine Ressurrezione ha fatto la fine di Vanellice e dobbiamo arrivare all'ultima domanda che è la famosissima morte di Tolstoi a me viene in mente con la stazione adesso ne parlerai che chiudiamo con questo il nostro incontro di stasera rimandando lo dico già al 13 di gennaio con l'incontro dedicato a Lolita e a Nabokov e alla come dire al pensare in russo e scrivere in inglese che mi ricorda un po' il mio amato Konrad che pensava in polacco e scriveva anche lui in inglese per cui voglio dire c'è questo però diciamo finiamo con la fuga di questo anziano nobile e famosissimo scrittore e la morte di Tolstoy in una stazione a me ha fatto venire in mente Anna Carielina come se ci fosse in lui di nuovo Anna Carielina se mua e va a morire in una stazione ferroviaria un po' come la povera Anna ecco io volevo che tu ci parlassi un attimo del senso di questa fuga di questa morte per concludere questo nostro breve escursus bello devo dire sull'opera e sul pensiero di Tolstoy la sua morte la morte è difficile cioè perché fa sorridere l'occasione cioè Tolstoy scappa di casa come un ragazzino 82 anni esasperato da reliti della moglie perché la moglie litigava tanto la moglie non era d'accordo sulle sue faccende cosa fa il profeta tutti i soldi che faccia quando lui ha venduto i suoi diritti di dottore quando lui ha ceduto i suoi diritti di dottore al notaio metta la dichiarazione che io non voglio più soldi perché io cedo i miei diritti di dottore a chiunque è uscito dal notaio è entrata poco dopo la moglie e ha detto li compro io e non ci ha rimesso niente la famiglia solo a un certo punto lui ha messo le condizioni da qui in avanti comunque gratis la moglie era una nobile tranquilla molto decisa nel suo tradizionalismo gli ha fatto tredici figli però voleva che le condizioni fossero rispettate insomma e litigavano tanto litigavano per stupidate lui era in perfetta cioè era perfettamente consapevole non era pazzo non era ricretinito dell'età a un certo punto però lui un mattino decide io me ne vado di nascosto me ne vado parto la mattina presto col calessi e vado alla stazione non ditelo alla contessa non dite dove vado la figlia dice va bene non glielo dico la figlia prediletta prende il treno naturalmente non prende il treno in prima classe prende il treno in terza classe va in un monastero a parlare con certi monaci che gli erano simpatici e che potevano tollerarlo va a trovare una lontana parente sempre in treno sempre in terza classe e purtroppo niente autunno viaggia sul treno scoperto terza classe sul belvedere prende freddo prende freddo dopo qualche giorno che è partito tre quattro giorni che è partito comincia a tossire non sta bene e cominciano a polmonite allora lo fanno scendere dal treno lo mettono nella casa di un capostazione a Stapo poca distanza da casa poche decine di chilometri ha fatto e non si muove più perché la febbre arriva a 40 arrivano i medici no queste polmonite è grave lui dice beh portatemi fratelli Caramazo intanto che guarisco l'eco arriva anche la moglie avvisata con un treno speciale arriva la moglie arriva tutta la stampa di tutto il mondo la paté journal arriva con sono le riprese se guardate in youtube sicuramente lo trovate ultime ore di Tolstoi c'era la paté journal che arrivavano col tre piedi e giravano c'era un fotografo che ha ripreso anche perché lui non ha voluto che la moglie entrasse a salutarlo ha ripreso anche la contessa Tolstoi Sofia Andreevna che sia in punta di piedi vuole vederlo almeno dalla finestra e Tolstoi dice mandatela via ultime frasi riferite una frase di Tolstoi francese che dicevano ai bambini quando aveva piccolo fais ce que doit advienti pura cioè fai quello che devi succederà quello che può succedere queste parole morto ah no io l'ultima parola sono io sempre voluto bene morto nella stazioncina di Astapavo nella casa del capo stazione con fuori tutta la stampa mondiale parenti giornalisti amici che non potevano entrare e tutti i giornali che parlavano Tolstoi in agonia Tolstoi stiamo morendo ma che roba è come mai desiderio di autenticità fino alla fine strana strana fine strana fine Dostoi eschei è morto per il suo enfisema tranquillamente a casa sua sono andato a cercarsela cercarsela cercando di fuggire per lui voleva voleva essere semplice voleva dice adesso voglio vivere come le persone normali non da ricco voglio vivere da povero morto c'è questa ironia tipicamente russa i russi sono molto ironici molto ironici sono ironici anche nella tragedia la caratteristica dei russi anche nel linguaggio nelle pieghe del linguaggio che lo permette è un grandissimo senso l'umorismo Igor io credo che possiamo concludere qua questa bellissima serata che è stata molto seguita devo dire ci sono un sacco di di commenti positivi di gente che dice comincerò a leggere Tolstoi che mi sembra che sia la cosa più bella che poteva succederci come dire questa sera parlandone permetto di consigliare le edizioni Mondadori che sono quelle che ho curato io da giovane certo certo specifichiamolo che ho curato io e quindi ci vediamo il 13 di gennaio ti ringrazio ringrazio quanti ci hanno seguito che spero abbiano apprezzato con me questa bella serata insieme a presto